Pericolo scampato e controlli tecnici questa mattina in via Ponte Marino in pieno centro storico a Ravenna. Il palazzo di Casa Melandri e la diacente torre civica pendente sono stati infatti oggetto di attente verifiche per ora superficiali e poco invasive da parte degli uffici tecnici del comune dopo che questa notte forse a causa delle avverse condizioni atmosferiche ed in particolar modo del fortissimo vento alcuni calcinacci e lacerti di modanature architettoniche sono crollate dalla struttura probabilmente di Casa Melandri. La polizia municipale intervenuta in mattinata ha transennato la via ed impedito l'accesso ai mezzi permettendo così l'intervento dei tecnici che hanno ispezionato sia la facciata di Casa Melandri che la struttura della torre civica pendente. Entrambe le strutture in questo momento non destano particolari apprezzioni né preoccupazioni. In ogni caso vi terremo aggiornati sulle prossime novità di questo fatto.